E salve a tutti ragazzi, qui è come sempre il vostro amico Gabri Costa e preparatevi a tornare indietro nel tempo. Vi ho fatto una sorpresa speciale per voi ragazzi, statemi a sentire. In questo videogioco di Rayman 2 della PS1 vi porgo il mio benvenuto al santuario di pietra e lava. Avete visto abbiamo ucciso quegli occhi che rimbalzavano? Poi arrivano quei caterpillar o roba del genere e poi quando appaiono quei grossi spunzoni mandateli via. Il santuario di pietra e lava ci piace ma vediamo di superarlo. Vediamo se è possibile trovare la terza maschera visto che siamo nel santuario di pietra e lava. Ecco avete visto? Quelli sono dei grossi spunzoni che escono fuori dal muro. Ah dimenticavo, in questo livello dovete recuperare 45 loom gialli e distruggere 5 gabbie. Nei video precedenti vi ho detto di trovare 600 loom che vi servono per aprire l'ultima porta. Wow, c'è questa pianta, avete visto? Siamo saliti su questo fungo. Purtroppo ci tocca rimanere fermi fissi su questo fungo. Io non ho mai visto questa pianta volante. Vediamo dove ci porterà. Io posso dirvi che affronteremo nemici diversi al santuario di pietra e lava ma non possono esserci sempre i pirati robot. Guardate, ci porta giù questa pianta o questo fungo volante. Non ho ancora capito se è pianta o fungo. Quando c'è una porta fragile voi dovete romperla sparando i vostri loom d'argento. Purtroppo questo sputafuoco ci brucia la pianta volante. Per fortuna ce n'è un'altra. E poi sopra quella pianta c'era un loom verde per farvi da checkpoint. Un'altra porta fragile ma noi la distruggiamo. Ora c'è una discesa ragazzi, preparatevi. Stiamo vedendo un sacco di rovi, un sacco di piante spinose. E poi non so se sono ortiche. Ecco, un altro sputafuoco ci brucia la pianta volante, è peccato. Ma noi si scende col nostro elicottero. Ecco, guardate dove siamo capitati. Qui. Purtroppo queste piattaforme cascano giù subito appena mettete piede. Mi piacciono i marfi, sono insetti verdi, mosche verdi. Aspettiamo che questo sputafuoco smette con il fuoco, così si può proseguire. E oltrepassato lui, andiamo avanti. Il nostro primo atto finisce ragazzi. Abbiamo azionato l'interruttore ed è apparsa la piattaforma. Io vi saluto, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale. Spero che vi stia piacendo il santuario di pietra e lava.